Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, ecco gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla FIPILI dove a causa di lavori si registrano due chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze e rallentamenti in direzione Livorno. Inauno a causa della rimozione del ghiaccio da alcune gallerie rimarrà chiuso fino alle ore 13 in entrambe le direzioni il tratto tra Aglio e Rioveggio. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, senso unico alternato è il restringimento di carreggiata al chilometro 89-970 in località Anchetta nel comune di Chiesole. All'Astra signa in via 24 Maggio a causa di una fuga di gas all'altezza del civico 70 alcune abitazioni sono state evacuate e la strada in questo momento è chiusa alla circolazione. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!